Ciao a tutti, dal vostro amico e canto autore emergente della provincia di Parma, Angelo Bettati. Nel video di oggi mi volevo soffermare a parlarvi un attimino del mio sito ufficiale bettatiangelo.com e non volevo parlarvi della struttura di come ho organizzato il sito, ma soltanto soffermarmi sulla scheda media perché all'interno della scheda media vengono indicate le recensioni delle canzoni. Le recensioni che vengono fornite da webzine oppure testate giornalistiche nazionali oppure radio in merito alle canzoni che via via pubblico. Quindi facendo riferimento all'ultima canzone, io ti seguirò, possiamo guardare insieme già che cosa ho caricato che è stato detto a proposito della canzone. E questo per me è utile per capire se il lavoro che è stato fatto merita attenzione anche da parte della critica oppure se c'è qualche cosa che si può modificare in meglio. Quindi vi invito a leggere anche cosa dicono gli altri enti preposti in merito al singolo che ho pubblicato così anche voi potete farvi anche una ragione più ampia. Continuate a sostenermi, a fare passaparola, iscrivetevi ai vari canali social e non mi resta che augurarvi una buona continuazione di giornata. Alla prossima, ciao!